ma bello a tutti ragazzi bentornati in questo mio nuovissimo video ragazzi quest'oggi siamo ritornati nuovamente qui su minecraft per continuare la nostra serie la nostra serie vanilla che stiamo ovviamente andando sempre più avanti e oggi sto registrando, allora vi dico una cosa io sto registrando prima di aver fatto la live perchè in pratica sto pre-registrandomi i video per poterli caricare sul canale e non farmi mancare i video perchè questa settimana io dovrò partire e quindi non potrò ovviamente fare i video non li farò però penso di portarmi il computer per poter fare qualche live allora ragazzi io, però comunque voi avete già visto là sotto come appunto lo abbellite e come abbiamo appunto fatto nella live abbiamo scavato, abbiamo detto eccetera eccetera allora io ho oggi intenzione di allora scusate un attimo ma qua io non ce l'ho quella di va bene non fa niente allora quella, l'intenzione mia oggi è di diciamo scavare un po' questo terreno per vedere cosa riusciamo a trovare qua in mezzo prendere questi altri cubi cioè queste altre piccole risorse che possiamo appunto sfruttare quando ci dovrà, quando ci servirà allora questo è polvere da sparo polvere da sparo dove è che l'ho trovata questa polvere da sparo ma non mi ricordo va bene io comunque direi di non perderci in chiacchiere perchè ovviamente sto registrando molti video oggi e quindi non, 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 scusate ma non penso durerà più di tanto ecco quindi rompiamo qua perchè poi ci servirà allora ok qua c'è molto 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 carbone che ci servirà sempre per la fornace oppure per altre cose per quando ritroviamo i villager possiamo prendere gli smeraldi che poi non lo so che con gli smeraldi ancora io non ho letto qualche video non ho letto nemmeno i commenti che mi avete scritto per quanto riguarda gli smeraldi ma non so cosa si possa fare cosa si possano fare penso comunque prendere, comprare qualcosa farmare qualcosa ora non ne ho proprio idea allora intanto che rompiamo qua rompiamo qua ok ok andiamo così allora ragazzi io nello scorso episodio cioè nel, 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 proprio, nel, proprio nello scorso video vi ho chiesto se volevate una musica di sottofondo vi ho chiesto di votare il sondaggio che avevo fatto in alto a destra sul video ora non so perchè ancora non l'ho visto bene però c'era tipo soltanto un 50 e 50 quindi ehm, sì 50, sì, 50, no quindi non lo so ora, ora dobbiamo vedere allora prendiamo quest'altro carbone qua prendiamo, oh, ok oh, ok ehm, prendiamo, ce la facciamo, ok prendiamo questo qua prendiamo questo qua prendiamo questo qua allora come piccola cavernetta come piccola caverna non è male perchè è piena di risorse e ci sono, ci sono molte risorse però io vorrei tipo ehm, espandere la cosa e andare molto, molto giù però allora, qua abbiamo finito di prendere di prendere tutto penso proprio di sì allora, quindi ehm, facciamo una cosa c'è il cane ok c'è il cane allora noi ci abbiamo qua, va bene intanto buttiamo giù tutto un po' di tutto ok, ok, ok ok, andiamo così al limite poi facciamo vabbè io direi di andare ok ehm, già vedo ah ecco qua ragazzi che avevo detto che trovavamo qualcosa e difatti abbiamo trovato qualcosa che cos'è questo? cos'è questo? cos'è questo? scusa cosa? ghiaia ah, è ghiaia forse pietro non lo so va bene, allora scendiamo esploriamo un attimo un po' allora io dovrei avere delle torce, sì ok vediamo un po' di met... ci dovrebbe essere dell'acqua qua se non sbaglio sento gli scheletri ragazzi andiamo a vedere da là allora io direi di prendere un attimo uh qua c'è altro ma qua mi sa che c'è una lava ecco il creeper ciao creeper ah è vero questo esplodeva mi ha tolto pure la vita sto stronzo allora togliamo quello togliamo quello ok allora poi rompiamo questi che... comunque ci fanno molto ci fanno molto piacere ah guardate quanto va sotto guardate quanto carbone cioè ragazzi è davvero una risorsa queste queste miniere guardate quanta pure esperienza che stiamo a pia moltissimo carbone ci abbiamo ragazzi moltissimo carbone ci abbiamo ah si è rotto il piccone oh man è la miseria eh non lo posso nemmeno fare perchè non c'ho la tavola da crafting va bene vediamo un po' quindi scendiamo vediamo che oh c'è altro altre risorse altre c'è di tutto qua quindi torniamo indietro vediamo un po' qua c'è altro carbone eh ragazzi il carbone quanti cavolo di carbone cioè abbiamo 64 più 7 di carbone wow ah buono 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 allora io vorrei fare prima una cosa ma riesco a fare allora vorrei vorrei provare a vedere una cosa perchè tanto quando c'è la lava cioè ragazzi guardate la quanto è piena è piena 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 però vorrei chiuderlo questo come faccio a chiuderlo no no eh mo non ci mettiamo una vita scusa ma se rompiamo con la spada di se è uguale allora facciamo una cosa diciamo ahhh siamo morti siamo morti siamo morti vabbè eh vabbè tanto dovevo rispammare qua perchè dovevo prendere quest'altro ok eh scendiamo giù e andiamo a prendere andiamo andiamo oh ma l'ho preso ah si ok quindi scendiamo giù e andiamo a prendere aspettate ma non me c'è i cubi là che c'è me più a fa questi ho lasciato pure il cosa prendiamo un po' questi dai è uguale ma tanto le cose sono là abbiamo capito che sono là ma no aspetta questo punto facciamo così ecco vabbè ecco cosa che non funziona non era di qua ok scendiamo da qua piano e qua e qua la lava ok ecco il qua ecco la nostra roba vendiamo tutto ciò che ci serve ciò che abbiamo buttato sbaglio allora questa è una pietra però allora vedi di di sparire la lava di cacca ok mettiamo le torce tanto qua è uguale dai ah ecco qua c'è acqua qua c'è carbone qua c'è altro c'è ragazzi pieno 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 di queste risorse eh di queste risorse ne abbiamo a volont ma che c'è ah ma c'è sto cosa ok 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 andiamo così quindi prendiamo no quella non c'entra più niente allora riusciamo a chiudere ok perfetto bene bene andiamo così andiamo così prendiamo tutto ciò che può servirci ah ok guardate quanto carbone che prendiamo c'è è infinito c'è guardate allora mettiamolo qui mettiamo allora l'S e ops abbiamo perso l'elmo abbiamo perso l'elmetto c'è una miseria abbiamo perso l'elmo eh si ragazzi abbiamo perso l'elmo ma vabbè sti cazzi che avevo fregato cioè oddio non è che ce ne facciamo una tragedia se ne fanno ok qua c'è qualcos'altro no quindi rompiamo qua saliamo andiamo di qua vediamo se riusciamo ah pure di qua c'è ecco wow ragazzi è pieno è davvero pieno pieno ah vabbè questo è quello di prima però dobbiamo cercare di scendere senza farci del male scendi ok ok prendiamo quest'altro carbone bello bello guardate quanto carbone proprio alla stragrande lo prendiamo sto carbone ci dà molta questi che non so questi tirini saranno tipo cose di esperienza ora non lo so forse forse si forse no non lo so vai ok prendiamo questo prendiamo questo prendiamo quest'altro carbone cioè guardate quanto bel carboncino che abbiamo ok allora andiamo da qua vediamo un po' cosa c'è oh guardate quanto è piena questa miniera cioè poi non è una miniera è poi una mini caverna una mini scusa ok la sfruttiamo proprio al massimo al massimo delle sue aspettative perché tanto poi dobbiamo prenderci tutto 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 ok l'abbiamo preso qua abbiamo preso ok prendiamo quest'altro carbone tac 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 qua 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 vai là oppure qua oppure qua oppure qua no ok qua questo pure questo pure questo pure questo pure questo pure guardate quanto carbone non finisce più non finisce più abbiamo carbone a non finire perché io penso che alla fine poi più di tanto carbone non è che serva però non lo so può servire come non può servire ecco buh e chi lo sa allora prendiamo questo prendiamo quest'altro prendiamo questo 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 prendiamo questo ok no si ma lo devi piano ok ah qua c'è l'altro cioè guardate quanto carbone guardate ok abbiamo preso andiamo a esplorare eh qua oh piano guardate qua guardate guardate là ah vabbè là c'è un altro un altro uso di carbone ma va bene proviamo ad andare ad andare dall'altra parte allora qua devo rompere perché sennò non ci passo ok ok allora noi ci siamo andati da allora ci siamo andati da questa parte questa parte non ci siamo andati mi sa guardate qua no qua non ci siamo andati mi sa beh qua c'è terra perché c'è terra non lo so andiamo da questa parte vediamo un po' cosa c'è oh qua c'è un altro un altro ok un altro ancora eh dai non finisco più proprio questi cosi sono pini siamo pini ci possiamo fare la collezione ci possiamo fare e da qua wow carbone altro carbone altro carbone 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 cioè non finisce più non finisce più ce ne abbiamo in quantità proprio atmosferiche abnormi atmosferiche che cazzo c'entro non lo so però vabbè wow guardate qua no figata ragazzi ragazzi avete capito questo è tanto qua se cadiamo alla fine andiamo a finire l'acqua non ci facciamo questo è il dove abbiamo dove dove avremmo già esplorato nella live figata noi siamo dall'altra parte wow cioè allora è gigante è una cosa diciamo unita figata cioè ragazzi qua e abbiamo a non finire di ste cose cioè quando ce ne sono quando se ne vuole cioè ce ne c'è di tutto oddio mi son cagato in mano mi son cagato ma io solo ammazzo ma non lo posso ammazzare si lo posso ammazzare lo potrei ammazzare ah mi son fatto mi son cagato in mano allora io vorrei provare ad esplorare quella parte però come faccio se c'è la lava eh bella domanda bella domanda qua pure dovrebbe esserci tipo ma scusa vabbè no vorrei ok almeno si ferma la live va a fa cura eh tutto un altro creeper no 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 le palle si così che esplodono allora ma questo c'ha fame è una cosa facciamolo mangiare un po' eh vabbè ho sbagliato qualcosa qui non funziona siamo ah no ma ce n'abbiamo solo uno eh vabbè sti cazzi intanto mo saliamo e ci andiamo a fare l'altro oddio lo scheletro no 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 via 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 da qua via da qua via via va bene dai per me per me va bene così allora oddio no pensavo che c'era un altro scheletro no da abbiamo scoperto una cioè non lo sapevo cioè non davvero non lo sapevo proprio proprio davvero figa Allora io comunque spero che questo video vi sia piaciuto In tal caso vi invito a lasciare un po' di giro su qua sotto Come talmente iscrivetevi al canale se ancora lo avete fatto Ragazzi ora mi devo andare a fare l'elmo Cerco un po' di fare qualcosa Però intanto registriamo l'altro video Comunque ragazzi io come detto se questo video vi sia piaciuto Vi invito a lasciare un po' di giro su qua sotto Come talmente iscrivetevi al canale se ancora lo avete fatto E noi ragazzi ci vediamo col prossimo video Ciao